A proposito di Trentino Volley, terza settimana di allenamenti, con sempre più giocatori a disposizione, sono rientrati infatti in palestra anche i serbi, Lysinac e Podrashanin. I due centrali serbi della Trentino Volley si sono uniti al gruppo di nove giocatori già al lavoro per la preparazione precampionato. Lysnac e Podrashanin hanno svolto le visite mediche per loro, nel primo periodo è stato previsto un programma differenziato di allenamenti, che li vedrà spesso al lavoro in Sala Pesi ma anche presso la piscina di Trento Nord di Gardolo. Per Podrashanin si tratta della prima stagione in giallo-blu. Fa un buon effetto sicuramente, ovvio che sappiamo tutti che grande è la società di Trento, che grande è la storia che ha la squadra contro i trofei vinto, quindi sicuramente il mio primo desiderio era rimanere qua e vincere più i trofei, anzi continuare a vincere sempre i trofei in Italia, che considero come il campionato più difficile da giocare ma anche più bello e più tosto. Obiettivo personale del Serbo, oltre alla Superlega, anche la Champions League. Intanto la squadra ha davanti una lunga estate di allenamenti, senza impegni in nazionale, un modo anche per consolidare il gruppo. Già mi sento parte del gruppo, ho visto tutti i ragazzi, i coach e tutti, quindi come ho detto prima, non vedo ora di cominciare soprattutto il lavoro con la palla perché sto facendo ancora la Sala Pesi, il lavoro nel Sala Pesi fisico. Sicuramente, come ho detto prima, possiamo fare tanto e tornare tutti i trofei, spero qua a Trento. Soprattutto la Champions, come ho detto prima. Prima di tutto vediamo intanto a che date iniziamo la lega perché spostano ogni giorno. Per noi è sempre una roba brutta, però è importante che prima di tutto si risolve la parte della vita fuori, poi risolveremo tanto in parte della vita della palestra e cominciamo con delle partite.